oggi vediamo un piccolo trucco come realizzare un calzino per la bambola in maniera molto molto veloce dobbiamo fare altro che prendiamo un paio di calzini nuovi ovviamente prendiamo un paio di calzini la gamba vedete com'è inseriamo la gamba nel calzino il tallone diventa la nostra punta vedete e con gli aghetti andiamo a prendere bene la misura tiriamo bene così tutto lungo il piede così che sia aderente non tanto moscio quindi prendete bene la misura qua tiriamo così tiriamo bene e mettiamo uno spillo tiriamo bene un altro spillo eccoci qua allora guardate una volta che avete preso la misura andiamo a ritagliare lasciando come sempre 5 mm in circa una volta ritagliato viene fuori una cosa del genere questa è la nostra punta poi andiamo semplicemente a fare una cucitura con la macchina la facciamo subito vediamo quello che ci viene fuori ovviamente una volta tagliato potete togliere tutti gli aghetti tutte tutte le spillettine allora all'inizio iniziamo dal fine così ci prendo bene la misura giriamo andiamo a fare una cucitura per far sì che scorri subito mettete qualcosa all'inizio se no non vi scorre mario non mi fa così in questo caso lascio un po di più sul bordo perché è un calzino molto elastico ho paura che mi sta largo dopo il calzino quindi senza tirare vado a fare tutto la cucitura ok 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 qua in fondo poi invece di andare fino alla fine facciamo una cucitura per attraverso come qua vedete cucitura per così le facciamo una bella punta semplicemente prendiamo schiacciamo e passiamo altro punto così qua abbiamo preso un pochettino quindi anche qua deve essere fatto in questo un pochettino diciamo Grazie a tutti. L'ho fatto avanti e indietro così non mi si scioglie. Taglio questo pezzo davanti, tutti i fili. Un attimo taglio anche, ma prima faccio il nodo, che non mi si scioglie sopra. Adesso taglio i fili in eccesso. Tagliamo tutto quello che per di più. In realtà, mentre giriamo il nostro calzino, eccoci qua, il calzino è pronto. Molto, molto, molto semplice. Questo è uno dei modi più semplici per realizzare i nostri calzini. Vedete? Buon lavoro.